cari amici di mille un'avventura come vedete gli iscritti aumentano da un giorno all'altro in modo impressionante per il canale 10 iscritti in un giorno anzi di più sono tanti e evidentemente vi interessa sentir parlare del mio vecchio game engine tridimensionale apocalypse perché appunto ci sono state tante visualizzazioni su questo argomento ve ne parlerò ancora in questo video e poi per un po cambieremo perché è chiaro che continuare a parlare dello stesso argomento può stancare però in effetti di apocalix che già è difficile da pronunciare si potrebbe parlare per settimane mesi visto tutto quello che c'è dentro e andremo a vedere un altro dimostrativo tanto per ridimensionare l'engine vediamo un po una scenetta di uno sparatutto in terza persona abbastanza ridicolo nel senso che a vederlo fa molta tenerezza diciamo però andiamo a vedere come semplice esempio si può fare un programmino di questo genere in pochissimo tempo con apocalix e quello che lo rende divertente sono i modelli dell'epoca infatti ci sono dei modelli che erano stati realizzati per mod modificazioni di quake 3 e anche di quake 2 e sono ancora più a basso numero di poligoni lo vediamo alla fine del video adesso però diciamo perché apocalix avrebbe potuto diventare come unity adesso ci diamo un po di arie ma se andate a vedere nel 2005 come era unity voi vedete delle schermate che somigliano tanto un po come aspetto a unity moderno ovviamente con meno funzionalità si vedono qui alcune alcune schermate di com'era unity e c'era un programmatore un programmatore eccolo qui arnut viers che nel 2006 ispirato da unity dalla sua interfaccia aveva cominciato a creare un'interfaccia a finestre per apocalix in pratica il suo programma funzionava indipendentemente dal mio motore tridimensionale ma si interfacciava mi aveva chiesto di creare alcune funzioni che si interfacciassero e quindi riusciva dalla sua applicazione a diciamo creare dei giochi con apocalix il nome era nsa editore adesso ve lo faccio vedere così in pratica vi rendete conto che l'interfaccia è molto simile a quella di unity di tanti anni fa devo spostare un po o mi sposto io ho sposto un po queste finestre qui vediamo se ci riesco questa non riesco agganciarla quindi la trasciniamo ancora un po avanti allora vedete questa serie di questa finestra di windows è realizzata con delfi quindi torniamo a parlare della borland del borland pascal che poi col tempo si è trasformato in borland delfi e lui nel 2005 2006 ispirato appunto da unity con la sua interfaccia particolare per costruire giochi aveva pensato di mettere assieme tutte queste finestre e le vedrete poco ma volevo solo darvi l'idea di cosa poteva essere nsa editor per apocalix all'epoca apriamo un progetto c'era un formato di progetti qui vedete i soliti script in linguaggio lua di apocalix e qui si vedono tante non vedete perché è piccolo come dico sempre però ci sono tanti tanto codice scritto in lua e qui di fianco compaiono tutti tutte le entità che sono state emesse in questo piccolissimo dimostrativo c'è un billboard c'è un terreno c'è una camera c'è una fiamma che brucia e qui dietro le mie spalle vedete tutte le varie proprietà che possono essere modificate somiglia tanto a una schermata delle entità di unity e se andiamo ad eseguire partiva l'engine ripeto il programma che vedete è indipendente dal dal mio game engine si interfacciava comunicavano la finestra di delphi poteva mandare dei comandi all'engine che faceva comparire oggetti li spostava li posizionava li ruotava e così via vediamo tanto per scoprire questo semplice dimostrativo ecco purtroppo sento vedete una fiamma che brucia non è un dimostrativo vero ci sono solo alcuni oggetti inseriti e ora se voglio vi dà molto fastidio scusate un attimo me lo abbasso un po però in effetti se vado a cercare dunque qui c'è billboard animation time sound no deve essere questo ci arrivo è un attimo solo sound sound radius mettiamo 0 ecco vedete ce l'ho fatta non dovreste più sentire il rumore del fuoco che brucia anche se vedete ancora il suono il lo sprite che è animato ecco praticamente ho modificato un parametro che è la distanza a cui può arrivare il suono in questa dietro le mie spalle e automaticamente nell engine il suono io lo sento ancora un pochino ma molto lontano perché ho messo come raggio del suono 0 e poi si possono modificare altre altre cose per esempio qui vedo flame image smoke e vabbè si può modificare la posizione per esempio lo posso mettere più in alto penso ah no ma forse era l'altra fiamma scusate pensavo fossero queste ecco era quest'altra vediamo se riesco a farla salire un po' di più eccolo vedete lì sopra se riuscissi a togliere questa roba qui allora qua c'è flame che è questa qui c'è billboard e l'abbassiamo l'abbassiamo e la mettiamo a meno 100 oh l'ho tolto finalmente ecco vedete quelle fiammelle rosse gialle che si vedono lì a distanza sono praticamente la fiamma che sta bruciando e adesso provo a metterla ancora più in alto metto altezza 5 e vedete che si è alzato ecco si è alzato lì in alto poi addirittura se io prendessi vediamo se riesco a far sparire questa cosa qua ecco se io prendessi la camera che adesso sta riprendendo la scena posso addirittura spostarla vedete con queste freccette qui le freccette qui verdi che vedete vicino alla mia spalla destra ecco vedete sta salendo sta scendendo è la telecamera che con queste freccette che sono tutte in un'altra applicazione viene comandata di spostarsi adesso la sposto lateralmente la sposto da quest'altra parte e così via questa questo scenario e posso anche ruotare però sono sempre lì che combatto con non so perché mi si apre ecco vedete posso ruotare la camera adesso va molto a scatti perché purtroppo non riesco ad agganciarla mi compare sempre la barra di windows che avevo nascosto chissà perché quindi era un metodo per creare entità all'interno di un di uno script infatti vi faccio vedere ancora questo anche la finestra si poteva ridimensionare per esempio ecco vedete si è un po spostata perché ho dato delle coordinate e la posso ingrandire qui metto 1000 cosa ho messo 10.000 1000 123 e applico e vedete che la finestra si è ingrandita si può fare in modo che la finestra rimanga soprattutto infatti vedete che anche se clicco sulla finestra delphi che è qui sotto l'engine rimane sopra ma se io cliccassi questa questa casellina finirebbe sotto quindi si poteva comandare tutto da questa finestra qui e chiudo questo si potrebbe anche vedere per esempio torniamo sull'entità che questo codice che rappresenta la scena che viene eseguita da apocalix può essere modificato direttamente da qui se metto pos y 100 se visto poco ma quel 100 è stato modificato nel codice lì di fianco in pratica le entità da questa parte modificano il codice un po come in unity questo non avviene per esempio anche nello unity in unity moderno se modifico un parametro dell'entità non è che si va a modificare il codice del del gioco va bene poi ci sarebbero tante cose da far vedere ma è così piccolo che non non lo potete così apprezzare più di tanto nel 2008 c'era questa cosa qui poi ci siamo occupati sia io che arnut virus di altre cose abbiamo un po abbandonato tutto proprio perché unity stava diventando qualcosa di esplosivo e non aveva molto senso andare avanti con questa cosa qui però qualcosa era stato fatto anzi molto era stato fatto perché se andate a vedere il la documentazione eccola qui ecco questa è la documentazione che arnut aveva scritto e c'è l'introduzione come si installa il concetto i concetti dietro l'editor come era suddiviso i comandi che si poteva quindi davvero un manuale fatto molto bene per un'applicazione che stava dando i suoi frutti ispirata da unity e qui insomma c'è tutto il manuale lunghissimo bene per vedere qualcosa di che fa tenerezza come ho detto l'altra volta andiamo a vedere il dimostrativo di cui vi parlavo che è urban tactics ho abbassato un po il sonoro perché era altissimo c'era anche una colonna sonora l'ho tolta perché dà fastidio premendo 5 parte qui ci sarebbe la colonna sonora che per fortuna non sentite e poi premendo 1 si può giocare e vedete che c'è questo modellino qua molto spigoloso la testa non si riesce a vedere perché come muove il mouse la testa punta nella direzione dove sta guardando si può sparare si possono lanciare granate che esplodono ecco momenti mi stava arrivando addosso queste sono tutte granate che esploderanno in sequenza come vedete qualcuno mi sta sparando aiuto perché non ho i tasti giusti perché ci sono anche i nemici e l'animazione chiaramente è molto molto a scatti ma questo è un modello realizzato per una mod di quake 3 e io ho cambiato solo la testa che era diversa non so neanche perché era più significativa quella originale vedete stanno arrivando questi nemici che ci sparano ma noi possiamo sparargli delle granate e vedete che l'abbiamo eliminato i modelli dei nemici invece sono di una mod di quake 2 perciò notate ancora quanto più siano spigolosi ce ne sono sei diversi all'epoca fine anni 90 inizi anni 2000 questa era la grafica oltretutto io stavo sviluppando apocalix su un computer c'è un altro che mi sta sparando eccolo eliminato stavo sviluppando questo engine su un computer neanche troppo potente e quindi non è che potessi esagerare con i modelli ecco che mi hanno eliminato una volta eliminato ci si può muovere ecco vedete come come si muovono a scatti i nemici vediamo se questo si sposta vedete animazione di idol si sta guardando intorno ogni tanto qualcuno corre in lontananza eccolo lì si è fermato anche lui stavo aspettando che questo partisse corresse ecco che è partito e vedete che sta correndo qui ce ne sono due che si sono intruppati e volendo per ricominciare così quindi chiaramente i modelli sono i palazzi sono dei cubi con delle texture applicate quindi fa molta tenerezza come cosa però è un giochetto che con apocalix si poteva realizzare in pochissimo tempo proprio perché c'era già tutto predisposto le animazioni dei modelli di quake 3 le animazioni dei modelli ah lì c'è qualcuno vediamo se riesco a colpirlo col mitragliatore a eccolo l'ho eliminato spariamo all'altro i proiettili sono molto lenti ma meglio così è passato un nemico sto divertendo tantissimo come vedete a qui c'è uno che non si è accorto della mia presenza laggiù ce ne sono due molto più efficace lancia granate visto che ci sono granate a ripetizione abbiamo preso anche quello ancora un nemico granate a ripetizione arma venieristica muro di mattoni assolutamente privo di finestre ma c'è qualcuno che mi spara da questa parte dunque la salute ancora 50 danni posso da posso prendere è più bello questo di warzone scherzo bene allora facciamoci eliminare non riescono a colpirmi sono troppo bravo comunque vedete l'intelligenza artificiale dei nemici lascia il quanto desiderare appena ci vedono si piazzano lì e cominciano a spararci non riesce a colpirmi non puoi ecco perfetto ho parlato non mi ricordo se ci si può alzare forse no con la visuale sì ecco adesso vedrete la mappa com'è fatta la mappa era realizzata non si può salire oltre i palazzi ho messo un blocco comunque la mappa era realizzata col generatore di mappe di quake 3 e vedete che poteva realizzare modelli e anche realizzare le ombre si chiamano light maps in realtà quindi tutto generato notate poi sul tetto le finestre bellissima questa cosa così si capisce che un cubo che ha tutta la texture uguale sopra e quindi diciamo il costruttore l'editor di mappe di quake 3 aveva tante belle funzionalità di cui sarebbe interessante parlare fine anni 90 inizi anni 2000 era ancora qualcosa di notevole adesso sono ovviamente questi motori diventati delle cose pazzesche non basta un programmatore per gestire tutto quanto bene vi ho fatto vedere come apocalypse poteva gareggiare con unity grazie alle ns editor e avete visto un gioco che fa sfigurare warzone o fortnite giochi di questo genere bene direi di chiudere qui almeno per un po con apocalypse dopo questi tre video di seguito e parleremo ovviamente di altre cose nei futuri video ma ci torneremo forse su apocalypse perché è troppo bello parlare di cosa si riusciva a fare 20 30 anni fa diciamo 20 25 anni fa bene a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivedi in uno dei prossimi video in una prossima diretta ciao a tutti